Buongiorno, benvenuti a questa la segna stampa di oggi lunedì 28 maggio, che è una giornata piuttosto critica ovviamente per quello che è successo, abbiamo visto ieri, riguardo al governo. Conte, secondo tutti quanti i resoconti dei giornali di oggi, si è presentato al Quirinale con il Quirinale che assolutamente ancora non voleva come Ministro dell'Economia unificato tesoro e finanze, come non è da un bel po' di tempo, il professor Savona, 81enne, direi non un talebano dell'Eurexit, ma certamente uomo critico nei confronti della Costituzione europea, che è una cosa ancora legittima, mi sembra, ancora in questo Paese poter avere questo atteggiamento. Così come è legittimo, come tutti quanti i giornali oggi fanno capire, il fatto che il Presidente della Repubblica possa più o meno impuntarsi su alcuni ministri, lo fece con Gratteri il Ministro della Giustizia che aveva previsto Renzi e che Napolitano gli cassò, lo fece famosissima l'impuntatura di Scalforo nei confronti del Ministro della Giustizia, addirittura che doveva essere previdi per il governo Berlusconi. Insomma, il Presidente della Repubblica, ci sono vari costituzionisti oggi sentiti dai giornali, hanno come loro prerogativa quella di nominare i ministri su proposta del Presidente del Consiglio. Quindi quello che è successo ieri è che Conte ha proposto un Ministro dell'Economia che il Presidente della Repubblica invece non aveva intenzione di nominare. Peraltro oggi c'è una lista dei ministri che sarebbe stata, fatemelo dire, nonostante io sia piuttosto contrario a questa evoluzione, a questa situazione in cui ci siamo trovati, secondo me non vedo qual è il problema nel nominare Savona Ministro del Tesoro, ne ho visti ben di peggio di Ministro del Tesoro, anzi Savona ha delle posizioni molto, secondo me, comprensibili. Ma quando vedo la lista dei ministri tutto si può dire, tranne che quello è un dream team. Fatevelo dire, nonostante oggi mi sembra che ci sia, in un momento in cui ci sono pochi grigi, sono soltanto no, o bianchi o neri, insomma avere la Lezzi come Ministro del Sud, la donna che non vuole la TAP e che sta facendo le manifestazioni con i bambini contro la TAP, non è un segnale favoloso di quello che può essere lo sviluppo del Sud, insomma è un Sud senza TAP, senza ILVA, insomma è un Sud industrializzato, facciamo il turismo, il verde certo, nel frattempo però ci sono 20, 30, 40 mila persone che stanno a casa, non mi sembrano che gli altri ministri siano dei ministri da far brindare, certo quello che fa premio è quello che è successo, cioè che il governo non si fa per l'impuntatura del Quirinale o anche di Salvini su un nome al Ministero dell'Economia. Il Movimento 5 Stelle, secondo elemento della giornata, ha chiesto l'impeachment di Mattarella e qui invece si sbaglia, però forse la lettura più, perché insomma fa parte delle sue prerogative, possiamo non condividere, io fino alla morte dirò che Mattarella secondo me ha sbagliato, ma pensare che ci voglia si faccia l'impeachment perché il Presidente della Repubblica utilizza una sua prerogativa, insomma forse era meglio cambiare la Costituzione che pensare all'impeachment del Presidente della Repubblica. Allora la cosa che, la lettura sull'impeachment che oggi dà, mi sembra, Verderami sul Corriere della Sera è la lettura più interessante, perché oggi esce così duramente il Movimento 5 Stelle contro il Presidente della Repubblica? Perché deve uscire dall'angolo, dice Verderami, in cui l'ha piazzato il Movimento di Salvini, perché questa è la notizia, che adesso si potrà votare, addirittura si prevede la seconda domenica di settembre, questo è quello che c'è sui giornali, ma se si va a votare si pongono due questioni, cioè i partiti come si metteranno davanti agli elettori e il Movimento 5 Stelle come si metterà rispetto alla Lega? Sono delle domande che oggi si devono fare, è già finito Conte, è già finito il governo giallo-verde, dobbiamo ragionare a quello che succederà a settembre, dopo che il 9 settembre ci saranno delle elezioni e arriverà un'uova maggioranza, quello che io poi penso che sarà straordinariamente più forte l'alleanza giallo-verde di quanto lo sia oggi dopo le elezioni, quindi per quella incredibile vicenda umana che l'eterogenesi defini ci troveremo una maggioranza e 10 Savona in più rispetto a quelli che oggi Mattarella e i benpensanti volevano tenere da parte, chiaro? Questo può succedere perché l'altra questione fondamentale è che il Presidente della Repubblica ha detto che Mattarella ha detto tagliare la spesa pubblica e se ne andò, come notano oggi i giornali, in lite con Renzi che non glielo permise, bene, diventerà probabilmente Presidente del Consiglio, verrà incaricato e farà il cosiddetto governo tecnico che dovrebbe fare due cose, la finanziaria, si pensa, se riesce a resistere e cambiare la legge elettorale. Ma ecco, chi voterà Cottarelli? Questo è il vero punto, visto che Movimento 5 Stelle e Lega sicuramente non lo votano e i due partiti godono della maggioranza al Senato per 6 voti e un po' più forte è la Camera, se questi due partiti non lo votano la vedo molto difficile che Cottarelli possa ottenere la maggioranza, quindi oggi i giornali dicono che è un Presidente a perdere, quindi non otterrà la maggioranza, ma c'è una questione politica che viene posta da Matteo Salvini in un'intervista a Repubblica di oggi, il quale dice, insomma mi sembra che Berlusconi come su prime dichiarazioni ieri invece di preoccuparsi della caduta di questo governo che stava nascendo, il governo del cambiamento, si è occupato dell'impeachment chiesto da Di Maio a Mattarella, mi sembrava più la Merkel che un nostro alleato. Ecco, dare della Merkel a Berlusconi, che peraltro si trova bene in questo ruolo di grande gestore istituzionale del Partito Europeo, dà il senso di come sarà molto difficile immaginare a settembre una campagna elettorale in cui vedi Salvini che si è rafforzato e diventato il leader del centrodestra con Berlusconi. Mulè oggi in un'intervista portavoce delle forze d'Italia dice il centrodestra o è tutti insieme o non è, ma mi sembra che in questi minuti non sia il centrodestra e che Salvini andrà da solo, tanto che nell'intervista a Repubblica la sua ultima domanda risponde i suoi rapporti con Movimento 5 Stelle e Salvini dice il contratto scritto con Movimento 5 Stelle non è carta igienica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che mi sembra che l'alleanza che si sta formando e tutti gli editorialisti oggi ne parlano è più non centrodestra contro centrosinistra, ma pro Europa contro Europa, il cui referendum ci sarà sostanzialmente a settembre. All'interno del Movimento 5 Stelle, come notano tutti quanti i giornali tra cui Repubblica, soprattutto oggi, ci sono le due anime, quella di Battista, di Lannutti, pensate un po' voi, Lannutti, il danno umano, cioè Lannutti il peggiore che voi possiate immaginare, con Di Battista e con Beppe Grillo, quel cazzone di Beppe Grillo, quello per cui noi giornalisti dobbiamo essere mangiati e poi vomitati, quello che non si capisce se è un comico o un politico. Per me è una merda Grillo, non il Movimento 5 Stelle, Grillo, capito? Io lo considero una merda. Bene, questo tipo di partito nel partito prevarrà o no. Il titolo di Repubblica di oggi è Il Movimento 5 Stelle sveste la sua ruolo istituzionale, perché c'è una parte, diciamo, che è quella, come si è vista in queste dative, dei Di Maio, di Casaleggio, che vi può piacere o può non piacervi, però è una componente istituzionale. E poi c'è quell'altra componente, quella di Grillo, quella che fa il rutto continuo nei confronti di tutti. Chi vincerà delle due componenti, posto che tra un po' si andrà in campagna elettorale. Durissimi oggi tutti quanti gli lettori dei giornali, diciamo, borghesi tradizionali. Fontana e i due vinticitori non possono che accusare loro stessi del fallimento, è il direttore del Corriere della Sera, mentre su Repubblica Mario Calabresi dice, ve lo leggo con esattezza, dice si torna a votare, insomma se la prende anche lui contro i due Di Maio e Salvini. Gervasoni, che sul Messaggero, dice il conflitto tra le due legittimità, questa è forse l'analisi più lucida di oggi, qual è il conflitto tra le due legittimità? Quella del popolo che ha votato e che vuole giallo-verdi, c'è poco da fare, perché c'è una legittimità in democrazia questo voto, è quello della Costituzione che assegna al Presidente della Repubblica, anche questo c'è poco da fare, c'è scritto la nomina dei ministri. Questo è un grande conflitto che ci dobbiamo trovare nei prossimi mesi. Libero, Mattarella sfascia tutto, il Presidente si piega agli ordini dell'Europa e questo è il libero di feltri. Invece il giornale, che ha un imbarazzo immagino perché non è né giallo-verde né può essere ovviamente completamente contro il suo elettorato, che comunque questo voto leghista l'ha compreso, dice si torna a votare, ciaone a Di Maio, quindi mette in evidenza il giornale che il vero sconfitto sarebbe Di Maio di questa partita. Insomma è un gran casino, ragazzi, siamo in campagna elettorale, da qua ai prossimi giorni, qua parlano di due, ci sarà un casino incredibile oggi sui mercati, mi sembra che i mercati questa mattina e alla mattina i future sugli spread e sulle borse, soprattutto sugli spread che è il differenziale, quello che ci ha obbligato secondo alcuni a evitare Savona ed è una cosa senza senso pensare che sia lo spread a dettarci i ministri dell'economia, ma comunque non perché lo spread non sia importante, ma perché è portato alle estreme conseguenze e lo spread allora non dovrebbe portarci alle elezioni, lo spread non dovrebbe portarci alla democrazia, lo spread non dovrebbe portarci a nulla. Mettiamoci d'accordo, se confligge spread e democrazia, con chi stiamo, a questa grande domanda, bisogna che qualcuno risponda, dobbiamo anche deciderlo se è lo spread e lo spread siamo così convinti che sia un indicatore che poi ha un, come possiamo dire, nel lungo periodo ha un peso per noi, questo non vuol dire che lo spread, il debito, la nostra allegria sui conti pubblici sia una cosa giustificabile, si è chiaro, però vi dico soltanto quelli che tanto amano lo spread siano molto coerenti e dicono allora sospendiamo i risultati elettorali si sono contro lo spread, no, a questo dobbiamo arrivare, un po' come abbiamo fatto in questa occasione. Le ultime due cose che vi dico in questa giornata tutta politica è questa storia del Giro d'Italia che è una cosa incredibile, che dà il senso di come il Movimento 5 Stelle quando governa in alcune situazioni con la sua inesperienza fanno delle figure da terzo mondo, quella che ha fatto Roma sul Giro d'Italia è il senso di un governo arrogante, non tutto il Movimento 5 Stelle è così, ma la raggi è quella roba lì, è quel grillo delle battute, è l'arroganza in persona che sapeva da un anno, come dice Cairo, editore del Corriere della Sera, in un'intervista, in una dichiarazione oggi sul suo giornale, ma perché lui organizza il Giro d'Italia, Cairo dice ma insomma si sapeva da un anno, sono 11 chilometri, cazzo, metteteli a posto, non possiamo fare questa figuraccia per cui i ciclisti si lamentano delle buche a Roma, i ciclisti si lamentano delle buche a Roma e quando la raggi risponde si trova ogni occasione per fare polemica, non è che si trova ogni occasione per buttarla in polemica, sono i giornalisti, c'è questo Froome, questo che ha vinto il Giro d'Italia che si è lamentato, non Babbo Natale, non i politici e questo inglese non ha la più pallida idea neanche di chi sia il Movimento 5 Stelle, sa che siete degli incompetenti, non siete in grado di fare 11 chilometri a Roma per il Giro d'Italia, non lo fate a Roma il Giro d'Italia, l'hanno fatto a Gerusalemme, è partito a Gerusalemme che mi sembra che abbia dei problemi geopolitici un po' superiori a quello che può avere Roma, chiaro? Questo è il concetto di come viene gestita Roma. Ultima cosa, il giornale di Feltri fa una polemica micidiale con la Boldrini perché aveva fatto un pezzo nei giorni scorsi in cui diceva e poneva la discussione sul risarcimento che una ditta di sicurezza avrebbe dovuto portare a una famiglia di una bambina di 14 anni violentata da uno della security, un miliardo di dollari di risarcimento, che è una cifra diceva Libero enorme, certo questo non toglie quello dice Libero, quello che è successo, ma un miliardo di dollari mi sembrava una cifra incredibile. La Boldrini vuole stracciare Libero per questa sua dichiarazione, per questo suo articolo la settimana scorsa e ovviamente Libero da passura gli risponde, la trombata alla camera fa la trombona con noi, noi non siamo a favore dello stupro, pensiamo che sia una cosa incredibile, dice Senaldi sul Libero, però permettetemi almeno di una domanda di farcela se secondo voi un miliardo è troppo o meno come rimborso. Molti dei vostri commenti, Mattarella è stato chiaro, ha detto che i mercati non avrebbero gradito, questo non va bene, basta con sta Boldrini, vabbè non ne parliamo più, basta con sta Boldrini, tutti quanti di fatti possiamo andare a... Lucio, la raggio è una capra, metteteci a brucare l'erba, non lo so, la nomina non prevede la valutazione politica ma tecnico-morale, questa è un'altra valutazione che fa uno dei nostri commensali a questa zuppa che dice effettivamente non puoi dare una valutazione tecnico-politica perché se no il Presidente della Repubblica dà l'indirizzo politico, invece ci fosse una valutazione morale, anche su questo però qualche dubbio sulle valutazioni morali fatte dal Presidente della Repubblica ce lo avrei. E' vergognoso ciò che ha fatto Mattarella, aveva il suo Premier PD, Cottarelli, Fondo Monetario, allora che Cottarelli sia un Premier PD, ragazzi abbiate pazienza, io l'ho visto a Matrix, tra l'altro questa sera ci sarà una serata speciale di Matrix, quindi mi raccomando su Canali 5 tutti collegati, ma adesso state buoni perché Cottarelli è una persona degnissima, lui col Fondo Monetario Internazionale c'entra ma si è licenziato e oggi fa tutt'altro. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento questa sera a Matrix e ovviamente sul sito nicolaporro.it. Ciao!